Quando hai ING, te lo si legge in faccia. Perché con conto corrente arancio, hai tutto a portata di, op, smartphone. Così ti basta una mano, e il gioco è fatto. E se hai visto bene, è a canone zero. Ma non fermarti allo zero. Con ING hai carte, investimenti, mutui, prestiti, assicurazione vita. Scoprili tutti su ing.it Grazie a tutti.